Io sono Alexia Galazia e per lo spazio-tempo io vo' per modificare gli eventi e impedire un sacco di guai e allora zippe vado nel passato, zappe vado nel futuro, tricker vado nel presente, tracche vado vado vado, che portento di avventure io c'ho nel telefilm, Alexia Galazia! Sì perché io sono Alexia Galazia e zompo nelle varie epoche, me ne impippo dei paradossi connessi alla mia attività e allora tricker vado nel passato, tracche vado nel futuro, zappe vado nel presente, zappe vado 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 che portento di lavoro io c'ho nel telefilm Alexia Galazia e che sventola, che sventola scusate!